musica posso stare tutta la partita qui a guardare cammino cammino nel vuoto no bastardo C'abbiamo una diva Lì e sopra a destra Un McCree Un Reinhard Lì in fondo c'è una fara Mi è perso di vedere Una tracer a sinistra Mi sono la tua preferita No è un McCree Viene qui No eccola qua la tracer dicevo io Eh bastardo lo sta rinciucciando Ciao tracer Aia 18 erezioni al minuto ha detto E' la matona Come scatena già C'è un Reinhard scatenato là in fondo Che è appena morto Si si scatenalo Eh guarda io ti stavo facendo la schiacciata addosso Io la evitavo Perché intanto correvo via Tracer Dove sei? Ho sentito il tuo teletrasporto Dove cazzo sei? Ma c'è qualcuno lì sopra? Oh cazzo Morti tutti Reinhard sei qui tu? No c'è ancora sto cazzo di McCree Rompicoglioni Oh ma diva non sei tu? Eh la madonna dai aiutatemi per favore Ho il mirino Eh grazie Grazie al cazzo Ha potenziato Zegnata Va bene Cosa che Quella roba è da sistemare Perché ogni volta Che premi triangolo Si sposta di continuo Come c'è Chino? Ah ma Come cala il martello non me Porca troia Cirati un secondo Che i Reinhard Vado Via Eh niente Mi ha fatto partire via Ti ho nel mirino Ma Vabbè Bello Rebea Ha dato la potenza Alcuno mi vuole aiutare A portarlo a termine O Vabbè lo faccio tutto io Va bene Intanto McCree con l'ultra Cioè giusto per C'ero solo io Dai avanzate Cioè nessuno ha Amato So Arca troia ma Cazzo stanno a fa Mi rendete conto Che abbiamo qui Lo spawn E non riusciamo Ad andare avanti Ho vinto da chi? Da McCree Troietta Poi dai Praticamente come aver vinto Nel senso Siamo qua Merda Ma la nostra? Narcosi Porca proia Da Siamo qua Praticamente Piccolo Questa Oh Mramos Romane Ah è morto, ah tu eri potenziato, uh reaper, ma dai ero, siamo tutti dietro la navicella vai, che culo, si, no, quella è peggio, bello, dietro mezzogiorno di fuoco, si ce la fate, c'è bene, non ce la facciamo, c'è, dai Mcree poteva almeno morirci, ah fateli giro per favore, noi ci fermo sempre, stamattina 66 centimetri abbiamo perso, certo, ma questo non ci può fare niente ragazzi, cioè, se questo mi puscia, dai per favore, abbiamo due cazzo di support, dai, che avete tutte e due la ultra, cazzarola, per favore, muori dio cristo, no, mezzogiorno di fuoco non lo so dov'è, eh figa, ma perché c'è sempre dietro, buttati Reynard, buttati, no, cala il martello, no, narcosi, tre centimetri sii, ma, se devono vincere praticamente, loro arrivi a tanto così dal coso cosa te ne frega, basta che non vincano loro, beh è sempre meglio vincere, abbiamo vinto, perché al massimo si vuole supplementare, ma solo pareggiano loro, cioè, esatto, non faccio di morire immediatamente, subiva da, cioè, com'è morto quello? arrivano tutti da destra, occhio mi sono tutti circondi, mi circondano proprio tutti mi isolo eh, eh, tutti morti siete? no, giusto per quello uno che abbia il coraggio di andare occhio mi spiace inizio c'è il forco è venuto fuori un bordello incredibile c'è ancora Mechri dietro? c'è ancora Mechri dietro secondo te a dove l'hai lanciata? perché si è riparato dietro lo scudo sono fottuto ha preso questo dietro a Reynard non serve un cazzo trascendere bastardo, lui può volare voglio isolarne uno ma quello stronzo salta via vai che Reynard è solo e non se ne è accorto bravi segnata sta arrivando bravi no, 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 è Mechri che sta andando a prendere il nostro stronzo là in fondo occhio è che arrivano tutti sì ma questo qui ci fa l'ultra ci scommetto 30.000 euro sta andando sopra bastardo cazzo c'è ma c'è anche qualcun altro ammazzate Reynard per favore era congelato ti beccherò eh ti ho preso meglio lei come cecchino che Ana chi c'è qua? è Mechri no, è Mechri il passo era troppo forte guarda rimani pure lì Reynard che meglio sì, calami sto cazzo fatemelo congelare fai niente da congelare eh, mi aiutereste? no, faccio da solo cioè sta curando di più di quanto io faccio male serie di 13 c'era quella lana che continuava a curare che c'è che ha fatto gli eroi non muoiono mai e non mi hai risorto a me? guarda tu quel pezzo di merda ciao che rompicoglione che è me Liverpool porca roia guarda 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 dai cos'è? due colpi ti ho detto se fa critico critico vale doppio 140 sono comunque un'assurdità è ormai l'unica cosa che gli è rimasta mi sa eh sì mi piaceva che Dima avesse il danno di Mechri anche da lontano però purtroppo eh sì però non sarebbe più un tank sarebbe chissà chi lo so sarebbe Dio Zlatan avesse il danno di Mechri